Salve amici e benvenuti a una nuova puntata di The Sims 4 Allora ragazzi, riaccomi qui dopo tanto tempo Cosa è successo? Dunque, ne sono successi di tutti i colori Se mi seguite su Instagram, vi invito a farlo Trovate il link nell'info box o comunque mi trovate come norashicgeek Avrete forse visto le mie storie in cui vi raccontavo delle mie ultime vicissitudini Che riguardavano un video che doveva uscire ancora in tempo Qualche settimana fa ormai purtroppo Avevo registrato una puntata che è andata cancellata dal computer Ma non solo, proprio dal cestino per una mia disattenzione E ho provato a recuperarla in tutti i modi per alcuni giorni Poi vi avevo avvisato che la settimana successiva sarei mancata alcuni giorni da casa E appunto sono stata in vacanza tre giorni E mi sono ammalata di nuovo per l'ennesima volta quest'anno Ragazzi, sono stata malissimo, mal di gola, febbre Abbassamento di voce, sono stata per due giorni completamente senza voce E ci ha messo un po' a tornare, ancora un pochino bassa comunque Finalmente posso tornare a registrare E quindi eccoci qui La puntata che doveva andare online era una puntata a cui tenevo particolarmente molto importante Perché ne accadevano delle belle Innanzitutto il compleanno di Isabella Dalla prima adolescente a passare di età A diventare giovane adulta E appunto quel passaggio di età ha preso delle decisioni Ora, niente, devo raccontarvi ormai a cose fatte Come vedete siamo in città Siamo a San Michuno Perché Isabella ha deciso Viste le problematiche in famiglia Per quanto riguarda la sua relazione con Fabrizio Non particolarmente accettata dai genitori Perché appunto è un ragazzo particolare Sappiamo un po' la sua storia Ha deciso di trasferirsi da lui Ed eccoci quindi Come vedete A casa di Fabrizio Ma non solo Cioè, non è tutto qui Ho pensato, vista l'occasione, di rinnovare l'appartamento Ricorderete che Fabrizio era appoggiato in questo appartamento Che gli era stato concesso dai servizi sociali Che avevano deciso di aiutarlo Visto la sua situazione precaria Perciò aveva proprio due mobili buttati lì Insomma, ragazzi, non mi piaceva per nulla Ho deciso di ristrutturarlo E facciamo finta che L'abbiano fatto in qualche tempo I ragazzi con le loro forze Sì, con i loro risparmi Come sapete Fabrizio è un musicista Aveva già iniziato a lavoricchiare Cantando, suonando Nei locali di città Ovviamente non guadagnava moltissimo Anche adesso abbiamo pochi soldi Ma è finalmente stato assunto Per un lavoro più sicuro Appunto, è un cercatore di microfoni aperti E ha iniziato la carriera di intrattenitore E l'appartamento L'ho arredato quasi completamente Con le loro forze Proprio con i loro risparmi Poi siccome ci tenevo A renderlo proprio più accogliente possibile Ad aggiungere alcuni dettagli Anche se mancano alcune cose Ho usato un trucchetto Per avere un pochino più di soldini E facciamo finta che sia stata La mamma di Isabella A volerla aiutare Che quindi le abbia Fatto un prestito Diciamo Perché Non vogliono regali I ragazzi Appunto Valeria ci ha mandato un messaggio Ho saputo che tu e Fabrice Avete iniziato a frequentarvi Congratulazioni per il tuo nuovo fidanzato Ok E come vedete Sì è un appartamentino piccolo Ma molto carino Mancano alcune cosine Ad esempio Qui avevo inizialmente messo in bagno Asciugatrice e lavatrice Ma E anche un televisore Qui Sopra il caminetto Ma mi sembrava poco credibile Insomma Visto Che avevano pochi soldi Non avrebbero potuto permettersi Tutte queste cose Comunque Immaginiamo che Siano tutti i mobili arrangiati Che Isabella Abbia trovato degli affari Al mercatino delle pulci Quindi mobili usati O che la gente dava via Tutti con uno stile un po' particolare Come queste sedie E così ecco Anche se in realtà appunto Non ho speso moltissimo Perché il più Lo faccio davvero Con i loro risparmi Poi abbiamo Il gattino Red E' qui nella sua cucetta Il gatto di Fabrizio E A questo punto Vorrei farvi vedere Isabella In casso Con i suoi nuovi look Da giovane adulta Allora Eccola qui E' uguale Identica a sua madre Lo è sempre stata Ma si nota sempre di più E questo è il suo primo look quotidiano Con questa treccia Il secondo è così Gli ho tenuto i capelli che aveva anche nell'adolescenza Abito formale Questo abito lungo blu Il blu le dona Il blu le dona davvero tanto La tutina sportiva Con le treccine Per la notte ha questa camicia I capelli sciolti Ovviamente questo è un secondo look Un po' più sexy Da festa Questo abito Che trovo perfetto per lei Che l'ho sempre immaginata un po' Figlia dei fiori Con questi stivali Color cuoio E il costume L'aspirazione di Isabella Quella è fanatica dell'aria aperta Quindi è una collezionista E come tratti abbiamo Ama l'aria aperta Goffa E creativa Vi faccio vedere anche Fabrizio Perché da quando Perché anche lui È cresciuto Un pochino prima di Isabella Facciamo che sia un po' più grande Gli ho cambiato Taglio di capelli Ha questo Un po' Sempre spettinato Lo mi piace così Ha fatto crescere la barba E questo è uno dei look quotidiani Questo è il secondo Col cappellino Ah e poi lui ha Ha anche un tatuaggio Poi ve lo faccio vedere Formale in total black Ecco qui La tuta sportiva Ha questo braccio Totalmente tatuato Da notte così Da festa Mi piace tantissimo Vestito così E il costume Aspira ad essere un genio musicale Quindi è riflessivo Romantico Pessimista E creativo Ovviamente è un cantautore Ok ora siccome è sabato mattina Stavo pensando di invitare Maria Così appunto Isabella le fa vedere La casa rinnovata Anche grazie al suo aiuto Quindi potremmo Quindi potremmo Cucinare Potremmo fare una macidonia E invitarla per la colazione Se è libera Non so se oggi lavora Comunque mi spiace tantissimo Aver perso La scorsa puntata Perché appunto Vedevamo il compleanno Di Isabella Avevo organizzato Una cosa A casa A casa loro E ovviamente I genitori avevano voluto Invitare anche Fabrizio Che però Non si è presentato Alla cena Facendo anche arrabbiare Isabella Però ha saputo Come farsi perdonare Perché lui ci sa fare È un romantico E I genitori sono rimasti Molto male Perché Non ha neanche avvisato Gli ha praticamente Dato buca Lei sta facendo Casotto Niente Isabella è andata da lui Per Avere spiegazioni Lui l'ha un po' Intortata Come sa fare E E quindi ha deciso Di non rientrare a casa Perché soprattutto Alessandro Si è molto infuriato E a lei dispiace Che lui Non accetti O comunque pensi Cose negative Del suo Pidanzato Ecco Perciò Lei è ancora Perciò Lei è ancora Chiarito con il papà Non si parlano più Da quel giorno Perché lui Non ne ha più voluto Sapere Ragazzi Allora Vediamo se Maria è libera Ok Arriva Meno male Ored sta mangiando Uff è arrivata Allora 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 Ecco È arrivata La mia mamma E A Maria Ho tagliato i capelli Mi piace molto Con questo taglio corto La frangetta Allora Abbracciamola Affettuosamente Ma come fai Fichi fichi Ma no Ma no Ma vi pare il momento Ma così da soli Ma ragazzi Ma c'è la mamma E la suocera Intanto Ored va a fare Una passeggiata Ma dai Ragazzi Vabbè Come non detto E Appunto Isabella le dice Mamma Vieni Ti faccio vedere La casa Oh si fanno una foto Dice Grazie a te Abbiamo potuto Avere tutto questo E Ma Ti assicuro che Ti ridarò tutto quanto Le dice Ma non ti preoccupare Ovviamente Maria L'ho fatto di nascosto Da Alessandro E anche tra loro C'è da chiarire Quella situazione Di crisi Di cui Avevo parlato un po' Anche nella famosa Puntata Eliminata Ma vabbè Lasciamo perdere Comunque Facciamo colazione Con Con La macidonia Che abbiamo preparato Ok Isabella Non chiede Del padre Non ha il coraggio Di Sapere Cosa ne pensa E Maria Cerca ogni tanto Di buttare La lì Le dice Ad esempio Questo sarebbe Piaciuto anche A tuo padre Insomma Cerca un po' Di far tornare La pace Fabrizio è sempre Molto timido Quindi Praticamente Quasi Non parla Maria Maria ormai Sembra averlo capito Maria ovviamente Le chiede Insomma Come vi siete Organizzati Per vivere Isabella Le racconta Che Fabrizio Ha trovato Un lavoro Vero E quindi Lei si tranquillizza Un po' E una delle Preoccupazioni Di Alessandro Era proprio Questa Ovvero Non approvava Questa loro Scelta Anche Di trasferirsi Quella di Isabella Di trasferirsi Per paura Dice Siete praticamente Senza lavoro Come farete A sostenervi Ma insomma Se la stanno cavando I due ragazzi Anche Piuttosto Egregiamente Isabella Sta raccontando Tutto questo Alla mamma Allora Fabrizio Deve andare in bagno Sì vai pure Questo È già Andato a male Fabrizio Andrà a lavoro Fra due giorni Ma deve Assolutamente Esercitarsi Esercitarsi Con la musica Mentre Per quanto riguarda Isabella Lei non ha Non ha Un lavoro Perché per lei Ho in mente Un altro tipo di percorso Collegato con La sua aspirazione E appunto In questa puntata Vorrei Dedicarmi Anche a questo Dunque Per cominciare Dobbiamo raccogliere Dieci piante Non identificate E prendere Cinque pesci Dov'è Red Che lo sento Piangere Ah ecco L'ho tornato Era andato a fare Un giro Ah mi sa che È spaventato Dalla chitarra Ma che tenero Ma che tenero Ma è tenerissimo Ma no ragazzi Come l'ho detto Credo che le piante Non identificate Si trovino Anche quelle A Granite Falls Quindi magari Al più presto In una prossima puntata Con loro Faremo Una vacanza Lì Per Coltivare L'aspirazione Di Isa Fabrizio Si sta Esercitando L'è intanto Andata a fare Una doccia L'ho Una sensazione Di tristezza Per il tratto Pessimista E vabbè Ci sta Oh il piccolino Si è messo a dormire qui Ah lui deve Continuare a esercitarsi Ha fatto solo Il 25% Concludere I magli Red Dopo rimanere Ossessionato Dagli oggetti In giro Per la casa Ok Ma quanto è tenero È dolcissimo Ok ragazzi Ha completato Di esercitarsi Il nostro Fabrizio Verso sera Andiamo Ad uno Dei locali Di città Dove Facciamo finta Che lui Continui Ad arrotondare Che è Che è Che è Che è Che è Che che è Isabella è sempre qui a guardarlo in prima fila come durante i loro primi incontri sentiamo questa questa mi piace un sacco con la sua voce e va bene ragazzi per questa puntata ci salutiamo qui è stata una breve puntata riassuntiva degli ultimi eventi vi chiedo scusa nuovamente per l'assenza non voluta mi mancava tantissimo registrare giocare, pubblicare i video mi raccomando ragazzi se non lo siete già iscrivetevi al canale per non perdere le prossime puntate in cui vedremo i compleanni degli altri adolescenti lasciatemi un commentino un pollice in su e seguitemi sui social se vi va io vi mando un grande bacio e a presto si spera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti